Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoporte. Oggi siamo in compagnia di Maria, che ci aiuterà in questa canzone di Rihanna, che si chiama Stay, dopo la sigla. Bene ragazzi, questa canzone si compone di tre accordi all'inizio, che sono Do maggiore, che tutti conosciamo, Do Mi Sol, poi accanto abbiamo Re minore, Re Fa La, e poi andiamo indietro La Do Mi, come il La minore. E la canzone inizia così, fa prima due giri. E rimane su La, e poi inizia. All'inizio è la canzone. Ok, e poi a questo punto si aggiunge un altro accordo Anzi, altri due accordi nuovi che troveremo Che sono Fa maggiore Quindi Fa, La, Do E accanto avremo il Sol maggiore E Fa così Oh, tell me now, tell me now you know Oh, il vivrante I really should have feel about it Something the way you know Makes me feel like I can't live without you It intens me, oh do I I want you to stay It's not much of a life you're living It's not just something to take, it's given Round and round and round and round we go Come abbiamo visto, gli accordi li possiamo prendere sia verso il basso Che verso l'alto, in base un po' al colore, come ci piace di più Ma il risultato è uguale, il Re minore ad esempio Io lo prendiamo qua, lo prendiamo qua Rimane sempre Re minore e possiamo scegliere Andiamo avanti Sì Ok, qua abbiamo anche il Mi minore che si aggiunge, che è Mi, Sol, Si E poi di nuovo il Fa Sì, so do you know which one of us is scary Ok, qui ora da Non really sure that I feel about it So within the way you move Makes me feel like I can't live without you But it takes me all the way I want you to stay Stay I want you to stay E' una canzone molto semplice da suonare al pianoforte Io ringrazio Maria per averci aiutato Baratini, è bene questa canzone? Ah, l'ho cantata così tante volte Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi su questo canale e attivare la campanella Così ogni qualvolta esce un video nuovo vi arrivi una notifica e potete guardare subito il video Inoltre se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra c'è un link che compare qui in alto che vi lascerò anche in descrizione Dove potete guardare insomma questo, come si può fare ad accompagnarsi con entrambe le mani, ok? Ciao ragazzi, ciao, alla prossima